Siamo in vola a via Pietroneni nel parco popolare Palladino dove nella notte di San Silvestro è accaduto una grande tragedia che ha visto due persone colpite. Allo scoppio dei petardi due persone sono state ferite e accompagnate in ospedale. Ora le loro condizioni sono ottimali ma risulta una cosa fondamentale. Dove saranno alloggiate le persone, le famiglie, 21 appartamenti qui presenti? Come il comune di Napoli ha reagito a tutto questo? Per il momento gli unici sopralluoghi fatti sono stati a cura del comune di Volla che ha anticipato i finanziamenti per alloggiare queste persone. Le stesse si trovano in un albergo qui a Cercola ma ancora altri problemi sorgono. Chi si occuperà del loro vitto? Chi si occuperà di tutto ciò che riguarda? È un parco dove vi sono numerosi bambini, quali si ritrovano con le loro famiglie senza sapere né dove andare né cosa fare. Sui volti della gente vediamo la tristezza per un parco lasciato da solo. Non sono anche loro dei cittadini? Vediamo le interviste. La notte di San Silvestro c'è stata questa grande tragedia. Abbiamo visto che c'è stato un grande intervento. Di quali forze? Di tutte le forze dell'ordine. In particolar modo abbiamo visto che ci sono stati i carabinieri, la polizia municipale, la protezione civile, il genio civile, militare, tutti, tutti. Addirittura l'ordine, le forze armate in ogni caso dello Stato. Ciò che però risulta strano è che per quanti giorni non si è avuta la presenza di nessun'altra persona? Passato il primo dell'anno, passata la domenica, è venuto lunedì e abbiamo visto l'assenza totale di tutte le istituzioni. Così una delegazione di persone è andata sul comune di Volla e abbiamo prestato un po' gli enti locali. Loro ci hanno indicato un po' come rivolgerci verso il nostro proprietario, che è il comune di Napoli. Ci hanno dato la prima assistenza. Qual è stata quindi un'accoglienza da parte del comune di Volla? Tanta. Positiva quindi? Sì, moltissimo. Qual è invece l'assistenza da parte del comune di Napoli, il cui gruppo Romeo è proprietario? Un'assenza totale. Signora, da quanto tempo abita in questo parco? Dal 1980. In quale parte della palazzina risiede? Quali danni ha subito la sua casa? Vetri, bagno e porta. Ed ora lei dove vive? Sopra. Ha avuto lo sgombero? No. Ritiene che questa situazione sia normale? No, perché in casa abbiamo due disabili, mio padre e mio figlio. Non abbiamo avuto soccorso da nessuno e stiamo in casa che penso che non possiamo stare. Qual è la situazione che sente ora di abbandono, di rabbia, di tristezza? Quale sentimento maggiore predomina dentro di lei? Rabbia, molto rabbia. Qualcuno si è lamentato della manutenzione di questo parco? In particolar modo c'è un ingresso principale che non permette bene il transito dei veicoli. Cosa ne pensate di questa situazione? Si deve allargare. Quali problemi? In particolare lei che ha una situazione di disagio in famiglia di due persone malate e crede che sia opportuno dire? Ho avuto difficoltà con l'autobulanza. L'autobulanza ha dovuto aspettare che prendessero la barrella per mio figlio camminare in un parco perché hanno avuto difficoltà ad entrare in parco. Ugualmente quella sera dello scoppio, i pompieri, tutti i soccorsi che ci sono venuti a soccorrere hanno avuto molta difficoltà ad entrare. Attualmente nei garage vi è una via di uscita? No. È murata? È murata. Vogliamo far sentire a tutti quanti in coro? Vi sentite protetti dalla gestione di Romeo? No. No.